Registro questo breve tutorial per gli amici della community per capire come fare un retargeting di uno scheletro utilizzando il toggle all'interno di Maya Allora, avendo il nostro scheletro animato tramite motion capture assicuriamoci di andare al frame 0 in maniera tale da avere il character in posa a T successivamente creiamo una definizione per questo scheletro e iniziamo in questa maniera Ok, adesso abbiamo la definizione del primo character completo Importiamo il secondo character in questo caso è un esempio preso da Mixamo Questo nostro primo lo nascondiamo e facciamo la stessa cosa creando una seconda definizione quindi andiamo sul più e creiamo una seconda definizione Ok, adesso abbiamo la definizione applicata su entrambi i character Adesso riportiamo la timeline a 200 e impostiamo come source sul character 2 la definizione del character 1 che in questo caso è animato Ok E vediamo così che il personaggio si animerà grazie al movimento del primo scheletro quindi della prima definizione realizzata in motion capture Se non avete capito qualcosa scrivete tranquillamente nei commenti e cercherò di rispondere il prima possibile Grazie Grazie